Oggi, stasera, parleremo dell'opera dello Spirito Santo. Compie un'opera il Padre, compie un'opera il Figliolo, ma c'è anche lo Spirito Santo che opera. Magari uno sente parlare maggiormente di quello che ha fatto Gesù, di quello che fa il Padre, che ha fatto e che fa il Padre e dello Spirito Santo. Magari si parla un po' di meno. Ecco, oggi voglio parlarvi appunto di alcune opere, perché saranno molte di più, alcune opere che sono scritte nella parola che compie lo Spirito di Dio, lo Spirito dell'iddio vivente e vero. Per quanto riguarda lo Spirito Santo, già all'inizio delle Sacre Scritture, infatti in Genesi, già ai primi versetti, vediamo che è presente. Quindi c'è stata la creazione, c'è stata la creazione della terra, creò nel principio il Dio, creò i cieli e la terra. E la terra era in forme e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Quindi vedete, lo Spirito Santo era presente, perché? Era presente già ai primi versetti della parola. Perché? Perché lo Spirito Santo insieme al Padre e insieme a Gesù Cristo sono Dio, Dio, sono Dio, formano un solo e vero Dio. Quindi non sono stati creati e ognuna di queste tre persone sono distinte. Il Padre non è il Figliolo e il Figliolo non è lo Spirito Santo. Quindi sono tre persone distinte che operano e che formano insieme un solo vero Dio. Quindi noi crediamo che vi è un Dio solo. Certo, crediamo che Dio è uno. Però crediamo anche che in questa unità, che è una unità, crediamo, composita, ci sono tre persone distinte l'una dall'altra. E sono il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo. Oggi mi voglio soffermare sull'opera in maniera particolare che compie lo Spirito Santo. Ad esempio in Giobbe vediamo che Eliù, quando parla, dice queste parole. Quindi in Giobbe, negli ultimi capitoli, capitolo 33, al primo discorso di Eliù, stanno scritte queste parole. Quindi vedete cosa ha detto Eliù? che appunto era sospinto dallo Spirito Santo a parlare in questa maniera, infatti ci troviamo queste parole nel libro di Giobbe perché ispirate dallo Spirito Santo. Tra queste parole ci sono appunto queste, che Eliù dice di essere stato creato dallo Spirito Santo e che il soffio dell'Onipotente gli dava la vita. Quindi vedete lo Spirito di Dio ci ha creati, quindi lo Spirito Santo insieme anche al Padre, insieme anche al Figliolo, compie l'opera creatrice di tutte le cose. C'era presente quando Dio ha detto, vi ricordate, facciamo l'uomo, è un plurale, quindi quando è stato creato l'uomo hanno partecipato sia il Padre che il Figliolo che lo Spirito Santo. Così anche Eliù ha confermato queste parole che è stato fatto dallo Spirito Santo. Lo Spirito di Dio mi ha creato, quindi lo Spirito Santo ha partecipato anche alla creazione di tutto e alla creazione anche dell'uomo e degli uomini perché di volta in volta vengono da Dio creati. Quindi abbiamo visto che Eliù dice che l'uomo è creato anche dallo Spirito Santo. Ma questa creazione fisica, questa creazione materiale dell'uomo è seguita anche da una rinascita spirituale, cioè si nasce fisicamente ma poi è sempre lo Spirito Santo che partecipa, che opera nell'uomo quella nascita spirituale. Quindi partecipa lo Spirito Santo sia ad una nascita materiale che a quella spirituale. Infatti leggiamo in Giovanni, al capitolo 3, leggiamo queste parole dove è scritto appunto che lo Spirito Santo opera una nuova nascita nell'uomo, nell'uomo peccatore. Capitolo 3, versetto 5 dice Gesù rispose in verità in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di Spirito non può entrare nel regno di Dio. Qui Gesù sta parlando della nuova nascita, una nuova nascita vedete in cui partecipa l'acqua lì raffigura la parola del Dio vivente vero e lo Spirito Santo lì lo Spirito indica appunto lo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo insieme alla parola del Dio vivente ecco che producono nell'uomo che è morto, nei suoi falli e nei suoi peccati, producono una rigenerazione spirituale, una nuova nascita, una nascita spirituale. Da uno che era morto ecco che diventa vivente, viene rigenerato spiritualmente, da morto diventa vivente. Per opera di chi? Per opera anche dello Spirito Santo, quindi lo Spirito Santo ha operato nell'uomo per rigenerarlo spiritualmente, quindi partecipa attivamente lo Spirito per quanto riguarda la nuova nascita. Che cosa avviene per la nuova nascita? Avviene che il Dio cosa fa? Attira l'uomo peccatore, lo attira verso Gesù Cristo. Poi lo Spirito Santo opera nel suo cuore, come da adesso a breve andremo a vedere in Giovanni, sempre nel Vangelo di Giovanni come scritto nel capitolo 16, opera nel suo cuore compungendolo, mettendo in lui quella fede nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto e mettendo in lui quella fede per credere nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto, ecco che i suoi peccati vengono espiati per la fede in quel sacrificio che Cristo ha compiuto. Quindi vedete che per quanto riguarda la salvezza, noi dobbiamo sapere che sono stati interessati tutti e tre. Il Dio Padre ha compiuto un'opera attirando le persone a Gesù Cristo, lo Spirito Santo ha compunto nel cuore quella persona e quella persona ha creduto, quindi per la fede che gli è stata messa dentro il suo cuore, ha creduto nel sacrificio espiatorio che Cristo Gesù ha compiuto. Capite perché è importante, è importante essere battezzati con la formula trinitariana, è importantissimo perché essendo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, accettando questa formula si riconosce l'opera che hanno compiuto tutti e tre nella salvezza di quella persona. Se io ne scarto due, se io ne scarto due e battezzo solo nel nome di Gesù, il Padre e lo Spirito Santo cosa hanno fatto per la salvezza di quell'uomo? Cioè io sto rinnegando l'opera che hanno compiuto lo Spirito Santo e che ha compiuto il Padre, capite? Quindi è corretto, è corretto sia perché è ordinato da Gesù nel Vangelo di Matteo, c'è proprio l'ordine di andare a battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e così noi facciamo e così dobbiamo dire agli altri che devono fare e così dobbiamo insegnare perché così è scritto. Ma lo facciamo, insegniamo questo anche perché noi lo possiamo confermare che è importante battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo perché tutti e tre partecipano alla salvezza. Stiamo parlando del battesimo in acqua che è una testimonianza della salvezza che si è ricevuto. Quindi è importante dare una testimonianza verace, non una testimonianza a metà o una falsa testimonianza, dobbiamo dire e testimoniare diciamo accettando appunto il battesimo in acqua, accettando la formula quella lì trinitariana nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché noi riconosciamo che tutti e tre hanno partecipato alla salvezza e insieme formano un solo è vero Dio. Noi non è che crediamo che ci sono più dei, ce n'è uno solo e questo noi è scritto e lo crediamo e lo diciamo. Però è anche vero che si è scritto che sono tre, quest'unico Dio è diciamo è costituito da tre persone distinte che sono il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo. Quando Gesù pregava il Padre non è che pregava se stesso, non faceva una scenetta perché se esiste solo Gesù come taluni dicono e quando pregava, quando diceva non la mia volontà sia fatta ma la tua, allora stava fingendo. Quella è una menzogna, capite? Una falsa testimonianza quella che Gesù ha reso seppur ci fosse uno solo. Invece Gesù non ha mentito, egli ha fatto ogni cosa perfetta a suo tempo, quindi ha pregato il Padre perché il Padre era nei cieli, era nei cieli. Gesù era sulla terra e poteva pregare il Padre, no? Alzava gli occhi ai cieli, alzava gli occhi al Padre, pregava il Padre. Quindi vedete, inoltre poi Gesù non era lo Spirito Santo perché lo Spirito Santo venne su di Lui, quindi c'erano tutti e tre operanti distintamente l'uno dall'altro. E questo è per quanto riguarda la nuova nascita che partecipano tutti e tre. A questa nuova nascita partecipa anche lo Spirito Santo. In che maniera opera lo Spirito Santo per quanto riguarda la nuova nascita? Questo lo leggiamo in che maniera? Al capitolo 16 di Giovanni, capitolo 16 dal versetto 7, 7-11. «Pure io vi dico la verità e gli vi è utile che io me ne vada, perché se non me ne vò non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vò io ve lo manderò. E quando sarà venuto convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me. Quanto alla giustizia perché me ne vò al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato». In pratica, vedete, quando lo Spirito Santo opera, qui Gesù dice che fa capire Gesù che lo Spirito Santo compie un'opera, compie un'opera nell'uomo che è perduto nei suoi falli e nei suoi peccati, è perso, è morto. Cosa fa quindi in un uomo di questo genere? Così come ha fatto in tutti noi, badate bene. Questa è l'opera che lo Spirito Santo ha compiuto in ciascuno di noi e ci ha fatti così rinascere di nuovo. Egli cosa ha fatto? Ci ha convinti quanto al peccato. Perché? Perché noi ci siamo riconosciuti peccatori. Noi ci siamo riconosciuti perduti nei nostri falli e nei nostri peccati. Noi non avevamo fede in Dio. Questo era anche, questo è un peccato. Non avevamo fede in Cristo. Non avevamo fiducia nel sacrificio che Cristo ha compiuto. Quindi una delle cose che lo Spirito Santo ha fatto in noi quando ci ha fatti nascere di nuovo è stata appunto quella di convincerci quanto al peccato. Abbiamo capito cos'era il peccato. Abbiamo capito la gravità del nostro peccato. Abbiamo capito la nostra morte spirituale e che avevamo bisogno di essere salvati. Avevamo bisogno di un salvatore. Allora lo Spirito Santo ci ha fatto vedere che cosa? Ci ha fatto vedere Cristo Gesù. Perché? Ci siamo riconosciuti peccatori. Lo Spirito Santo ci ha convinto di questo. Però ci ha fatto anche capire, quindi vedete dove dice quanto alla giustizia perché me ne vuo al Padre. Vedete? Perché? Cosa ci ha fatto capire lo Spirito Santo? Ci ha fatto capire che la nostra giustizia, le nostre opere, una volta che abbiamo considerato che siamo morti nei falli e nei peccati, non potevamo essere salvati per le nostre opere, per la nostra giustizia. Non eravamo in grado di essere salvati per la nostra giustizia, osservando le opere della legge o le opere buone, compiendo opere buone. Allora lo Spirito Santo ci ha fatto capire la giustizia di Dio. La giustizia di Dio qual è? È quella che si ottiene la giustificazione, la salvezza, mediante la fede nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto. Egli ha compiuto quel sacrificio, ha sparso il suo sangue e mediante quel sangue noi siamo stati purificati dai nostri peccati. Ci sono stati rimessi i peccati perché abbiamo creduto in quel sacrificio. Ma guardate bene, questo credere, quest'opera, chi l'ha compiuta? Non è che ci è venuta così all'improvviso da noi stessi. L'ha compiuta lo Spirito Santo. Quindi vedete quanto è importante conoscere anche queste cose, perché quando noi annunziamo l'Evangelo, quando noi annunziamo l'Evangelo a qualcuno, se non è lo Spirito Santo che lo compunge nel cuore, che lo salva, che gli fa capire cosa ha compiuto Cristo Gesù sulla croce, non c'è niente da fare, capite? Quindi non è che siamo noi che non siamo stati capaci di annunziare l'Evangelo, quindi non abbiamo demeriti. E non siamo noi che quando invece si convertono, non siamo noi invece che abbiamo i meriti che quella persona si è convertita. Perché dobbiamo sapere che è lo Spirito Santo che compunge il suo cuore e lo salva. è lo Spirito Santo. Quindi non siamo noi. Quindi a Dio va tutta la gloria. Noi non abbiamo né il peso. Se una persona non crede non abbiamo neanche i meriti se una persona invece crede. Perché? Perché sappiamo che chi compie l'opera nel cuore di colui che ascolta il messaggio, chi compie l'opera è lo Spirito Santo nel suo cuore. Quindi a Dio deve andare tutta la gloria. Ecco perché diciamo che la salvezza non dipende dall'uomo, non dipende da noi che vogliamo credere, non è dipeso da noi quando abbiamo creduto, non è dipeso da noi, fratelli. È Dio che si è compiaciuto di compiere attraverso il suo Spirito Santo di convincerci prima di peccato e poi di qual è la giustizia di Dio che ci porta alla salvezza, che è mediante la fede nel sacrificio di Cristo Gesù. È per questo che noi siamo stati salvati. Un'altra cosa, un'altra cosa di cui lo Spirito Santo ci ha convinto è appunto che il diavolo è già stato giudicato, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Cioè il giudizio è già stato dato, è stato fatto, lo stagno è stato creato da Dio, lo stagno di fuoco di zolfo dove saranno gettati il diavole, tutti i suoi angeli e con tutti gli uomini ribelli e malvagi che non avranno creduto nell'Evangelo. Quindi questo giudizio è già dato, non lo possiamo modificare. E anche questo ha compiuto lo Spirito di Dio in noi, convincendoci di tutte queste cose. Badate bene, lo Spirito Santo ha operato perché noi eravamo morti nei falli e nei peccati, incapaci di fare alcunché di bene e di male, quindi incapaci di rigenerarci da noi spiritualmente, incapaci di credere. Non è che noi eravamo liberi di credere, noi eravamo liberi di credere oppure di non credere. Noi eravamo morti, non avevamo nessun tipo di volontà, non potevamo fare nulla, eravamo morti. Come è morto uno carnalmente, no? Se voi guardate un morto, quello non si muove. Ha solo bisogno eventualmente che si preghi per lui e che risusciti dai morti. Ecco, allora ottiene la vita. C'è dopo nel suo corpo una nuova vita. E così è avvenuto di noi. Noi eravamo spiritualmente morti, come se fossimo morti proprio nel fisico. C'è stato un intervento potente dello Spirito Santo per rigenerarci e per farci tornare in vita spirituale. Adesso possiamo dire, possiamo quindi dire di essere nati di nuovo e di essere vivi spiritualmente. Perché prima, benché camminavamo, eravamo comunque morti spiritualmente. Eravamo morti, non eravamo vivi, eravamo morti spiritualmente. camminavamo, ma eravamo morti. Adesso invece siamo tornati in vita. Un'altra maniera di spiegare, e questo è pure importante, un'altra maniera in cui la scrittura spiega la nuova nascita lo troviamo in Prima Corinzi, capitolo 12, versetto 13. Questo è importante. Perché? Perché viene confusa la nuova nascita che viene spiegata qui, in questo passaggio biblico, viene confusa con il battesimo con lo Spirito Santo. Da chi? Da chi viene confusa? Viene confusa da coloro che vengono chiamati antipentecostali, quelli che non accettano le guarigioni divine, i segni potenti di Dio, il battesimo con lo Spirito Santo con la manifestazione delle lingue, i doni spirituali, i sogni, le visioni di Dio potenti. Capite? C'è una cerchia di credenti evangelici che noi li riconosciamo, dobbiamo riconoscerli come fratelli. Perché? Perché rigenerati spiritualmente, quindi nati di nuovo va bene. Li dobbiamo chiamare fratelli. Se sono nati di nuovo, chiunque esso sia, se è nato di nuovo, è nostro fratello. Noi non ci possiamo fare nulla. Poi può essere ribelle, può essere ignorante, può essere un cattivo operaio, può essere tutto quello che volete, ma se è stato rigenerato è un fratello. Se è stato rigenerato dallo Spirito di Dio anche lui è un nostro fratello. Poi se non si può camminare con questi fratelli non camminiamo, però dobbiamo stare attenti a disconoscere qualcuno come fratello. Cioè non è che dobbiamo essere sicuri di dire quando uno, se non lo chiamiamo fratello, ecco, dobbiamo essere sicuri. Dobbiamo avere elementi certi per poterlo dire. Adesso tornando al nostro testo, capitolo 12 di prima Corinzi, versetto 13, stanno scritte queste parole. Badate bene, questo è un caposaldo di questa categoria di persone che vi ho citato adesso. Se voi lo comprenderete, questo passaggio biblico, voi quando ve lo citeranno o quando vi troverete a parlare con questi sarete in grado di spiegarglielo perché le cose sono sono così come adesso vi dirò. Capitolo 12, versetto 13. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo e giudei e greci e schiavi e liberi e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. Quindi qui parla di un battesimo, di un battesimo di spirito. Vedete? E dobbiamo quindi chiederci cosa sia. Questo battesimo dello spirito, di spirito, come vogliamo, non è il battesimo con lo spirito, ma questo tipo di immersione, perché battesimo vuol dire appunto immersione, questo tipo di immersione produce un determinato effetto che non è quello che produce, non è lo stesso effetto che produce il battesimo con lo spirito santo. L'effetto che produce questo tipo di battesimo è indicato qui quando dice per formare un unico corpo, cioè l'effetto di questo battesimo è entrare a far parte del corpo di Cristo, si viene immersi nel corpo di Cristo. Un corpo, il corpo, la Chiesa, non è altro che il corpo di Cristo qui sulla terra. E in questo corpo è costituito, il corpo di Cristo è costituito dalla Chiesa universale, da tutti i credenti che sono nati di nuovo e sono stati salvati. Adesso fanno parte del corpo di Cristo, della Chiesa di Dio. E in questo corpo sono entrati a far parte i gentili, i greci, gente di tutte le nazioni, tribù e lingue fanno parte di questo corpo, della Chiesa universale, che viene chiamata anche il corpo di Cristo. Quindi qui stiamo parlando di un tipo di battesimo che riguarda diciamo il momento in cui si entra a far parte del corpo di Cristo, si entra a far parte della Chiesa di Dio. E noi, come abbiamo letto anche prima, è il momento della nuova nascita che noi siamo stati salvati ed è quel momento lì che si entra a far parte della Chiesa del Dio vivente, al momento della nuova nascita. Non al battesimo in acqua come taluni credono, ma al momento della nuova nascita, perché spiritualmente si viene rigenerati nel momento della nuova nascita. E questo battesimo di spirito è un altro modo per indicare appunto questa esperienza della nuova nascita, perché l'effetto di questo tipo di battesimo, di questo tipo di immersione, perché battesimo vuol dire immersione, questa immersione nel corpo di Cristo avviene nel momento in cui si nasce di nuovo. E qui è scritto chiaramente, infatti è detto, abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per, questo per introduce l'effetto conseguente a quello che è stato detto prima. Quindi il battesimo di spirito produce questo, cioè che avviene per formare un unico corpo, cioè produce questo, che il credente, quell'uomo, che prima era peccatore, che era fuori dal corpo di Cristo, che era fuori dalla chiesa dell'iddio vivente, viene in un attimo immerso, viene battezzato di spirito immerso nel corpo di Cristo, quindi entra a far parte del corpo di Cristo. Quindi questo passaggio biblico non può essere preso, siccome c'è scritto che noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo. Praticamente viene presa questa frase per dire, vedete, il battesimo di spirito l'abbiamo ricevuto tutti, è vero, è vero che l'abbiamo ricevuto tutti, tutti i credenti l'hanno ricevuto il battesimo di spirito, perché questo tipo di battesimo indica che cosa? Indica la nuova nascita, non sta parlando del battesimo con lo spirito santo. Purtroppo ci sono delle paroline che dobbiamo notare che messe in una certa maniera cambiano completamente il significato, perché badate bene nella scrittura la parola battesimo viene utilizzata per indicare diverse esperienze, non solo il battesimo con lo spirito, non solo il battesimo di spirito, ma viene usata la parola battesimo per indicare anche il battesimo che ministrava Giovanni Battista, il battesimo anche di sofferenze della morte di Cristo, anche per quella morte di Cristo viene indicata la parola battesimo, viene indicata la morte di Cristo viene indicata anche come un battesimo, un cambio di stato, un cambio che denota un cambiamento totale, dalla vita alla morte, quella fisica. Quindi la parola battesimo dobbiamo andare a vedere dove quando la scrittura cita questa parola dobbiamo comprenderne bene il significato, a che cosa si riferisce, a quale esperienza precisa si riferisce. Quindi qui nel testo che stiamo leggendo noi, in particolare in prima Corinzi 12, 13, si riferisce alla nuova nascita, perché l'effetto di questo battesimo è entrare a far parte del corpo di Cristo, la conseguenza. E quindi questa conseguenza ci dice che questa è la nuova nascita, è la nuova nascita, quindi non è il battesimo con lo Spirito Santo, perché il battesimo con lo Spirito Santo, la scrittura ci dice che Gesù quando prometteva il battesimo con lo Spirito Santo diceva appunto che riceverete potenza, riceverete potenza, non c'è scritto che riceverete la salvezza o non riceverete altro, ma potenza per essere testimoni efficaci, per essere testimoni efficaci per testimoniare potentemente dell'Evangelo. E questo, quindi si riceve maggiore potenza con lo Spirito Santo. Però non è la nuova nascita, perché? Perché quando uno riceve il battesimo con lo Spirito Santo non aggiunge nulla, non si aggiunge nulla alla salvezza, la salvezza è perfetta già nel momento in cui si è nati di nuovo. Dopo si ricercano tutti quei doni, quella potenza che viene dall'alto per poter servire al meglio il nostro Dio, per servirlo con potenza appunto. Quindi è da distinguere il battesimo di Spirito dal battesimo con lo Spirito Santo. E qui abbiamo visto quindi la nuova nascita, un'opera che compie appunto lo Spirito Santo. Ma quali sono? Una volta che un credente è nato di nuovo, ci sarà pure un cambiamento, perché noi sappiamo che quando uno nasce di nuovo ci sono degli effetti in lui che produce appunto lo Spirito Santo che è dentro di lui. Ci sono dei cambiamenti, c'è uno stravolgimento dentro la persona. Ebbene, ebbene, è così. Leggiamo infatti in Romani, dobbiamo andare in Romani al capitolo 8, dal versetto 12. Leggiamo. Leggiamo queste parole che ci fanno capire come lo Spirito Santo opera dentro il credente. Adesso siamo passati agli effetti. Una volta che lo Spirito Santo ha rigenerato spiritualmente il credente, produce dentro di lui degli effetti. Ora vediamo alcuni alcuni degli effetti che produce lo Spirito Santo dentro il credente. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete. Ma se, mediante lo Spirito, mortificate gli atti del corpo, voi vivrete. poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. Poiché voi non avete ricevuto lo Spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro Spirito che siamo figlioli di Dio. E se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio, ecco eredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Quindi vedete cosa è successo? È successo che lo Spirito Santo ci guida, ci porta, ci sospinge a mortificare gli atti del corpo. Quindi per quelli che camminano seguendo la spinta e gli impulsi dello Spirito di Dio mortificano gli atti del proprio corpo, cioè non danno sfogo a tutti quegli atti corporali che sono peccato praticamente, mortificano, cercano di controllarsi in ogni cosa. Questo è un effetto dello Spirito Santo che è dentro il credente. Quindi talvolta si vede, no? Si vede quando una persona non è credente che si lascia andare a ogni tipo di peccato. Infatti i peccatori, quelli che non sono credenti, non sono controllati da niente, da nulla. Si lasciano andare ad ogni tipo di peccato talvolta. Vivono nel peccato, sono dominati dal peccato. Perché? Perché non hanno lo Spirito Santo che li guida e li aiuta a mortificare gli atti del corpo. Un'altra cosa che compie lo Spirito di Dio dentro di noi è quello che abbiamo letto, è che noi abbiamo ricevuto lo Spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba Padre. Infatti il nostro Spirito insieme allo Spirito di Dio, perché voi sapete che l'uomo è creato, è costituito da tre parti, dal corpo, dall'anima e dallo Spirito. Ha un suo tipo di Spirito. E lo Spirito che è dentro di noi, insieme, badate bene, insieme allo Spirito di Dio che è venuto ad abitare dentro di noi dal momento in cui siamo nati di nuovo, compiono un'opera. Lo Spirito di Dio compie un'opera, infatti quella di farci gridare a Dio, no? Di farci, gridiamo a Dio Abba, che vuol dire Padre. Padre! Quindi da quando è venuto lo Spirito Santo dentro di noi, noi gridiamo Abba Padre, cioè riconosciamo che Dio è nostro Padre perché appunto ci ha rigenerati spiritualmente. Siamo diventati così figlioli dell'idio vivente. E questo lo facciamo perché? Perché è lo Spirito Santo insieme al nostro Spirito che ci fanno gridare Abba Padre. Quando noi ci inginocchiamo a pregare Dio, a glorificare Dio, è lo Spirito Santo insieme al nostro Spirito che fanno ciò, che fanno questo. Non siamo noi da soli, ma è sempre lo Spirito Santo che ci spinge, che ci aiuta, che ci porta a rendere quest'opera, a dare gloria all'idio vivente vero, a dare gloria a Cristo Gesù. È lo Spirito dell'idio vivente insieme al nostro Spirito. Ecco perché quando glorifichiamo il Signore siamo edificati, perché lo Spirito Santo sta operando insieme al nostro Spirito. Quindi noi nel nostro Spirito siamo edificati, siamo consolati, perché lo Spirito Santo sta operando in profondità dentro di noi insieme al nostro Spirito. Sta operando Lui. Quindi dobbiamo badare bene perché questa edificazione, questa consolazione, quest'opera profonda che compie lo Spirito Santo dentro di noi può avvenire solamente se noi però lo lasciamo lavorare, se noi non ci contaminiamo, se noi perseveriamo nella santificazione, se noi andiamo del continuo a cercare Dio in preghiera, a cercare la comunione con Dio in preghiera. Perché se noi, anche se credenti, a un certo punto abbandoniamo la via della verità e ci cominciamo a condurre come ci piace a noi nel peccato, a fare tante cose che sono sconvenienti, questa comunione dello Spirito che opera insieme al nostro Spirito viene a mancare, perché lo Spirito non opera più, non opererà più, anche se sarà presente, ma non opererà più. Perché? Perché ci stiamo conducendo male come al Signore non piace. Quindi in noi si produrrà una tristezza, una tristezza mortale appunto. Perché? Perché il salario del peccato è la morte. Quindi si contrista lo Spirito Santo e non sentiamo più quella comunione con Dio. E lo Spirito Santo non ci farà più gioire della sua presenza dentro di noi che insieme al nostro Spirito griderà Abba Padre. Ci farà comprendere, chiaramente ci fa comprendere, lo Spirito Santo che ci fa comprendere che siamo figlioli dell'Iddio vivente. Perché è importantissimo questo. Cioè noi adesso siamo figli dell'Iddio vivente vero. Siamo coeredi di Cristo, siamo figlioni di Dio e quindi siamo eredi di Dio, fratelli. Di questo dobbiamo ringraziare Dio del continuo. Perché siamo stati fatti figlioli figlioli di Dio. Adesso apparteniamo a un altro regno. Adesso apparteniamo al regno celeste. Un'altra cosa che Dio appunto, e avendoci fatti figlioli di Dio, un'altra cosa che Dio ha operato, e dobbiamo considerarlo questo, è importante, dobbiamo andare a leggere in ebrei. Poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne, anche egli vi ha similmente partecipato, affinché, mediante la morte, distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che, per il timore della morte, erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Praticamente cosa è avvenuto? È avvenuto che prima noi, quando eravamo perduti nei falli e nei peccati, noi eravamo schiavi del diavolo, eravamo schiavi e anche schiavi del timore della morte. Ma Gesù Cristo, quando è morto e ci ha salvati, e mediante la sua morte noi siamo stati salvati, una delle cose che lo Spirito Santo ha compiuto, appunto, con la rigenerazione, è quella di liberarci dal timore della morte. Fratelli e sorelle, non dobbiamo più temere nulla, non c'è nulla da temere. Se noi vivremo, dobbiamo vivere per servire Cristo Gesù, il Signore, il nostro Signore. Ma seppur un giorno ci rendiamo conto che dobbiamo andare a morire, dobbiamo morire, perché prima o poi dobbiamo morire. Noi non dobbiamo temere nulla, perché il Signore vuol dire che ci sta aspettando lassù nei cieli. Quindi la morte non ci deve più impressionare, la morte non dobbiamo più temerla, la morte è stata schiacciata, è stata, o meglio, il timore. Per adesso è stato vinto solo il timore, la morte no, non è stata ancora vinta. Solo Cristo ha vinto la sua morte quando è risuscitato, perché Gesù è risuscitato. Noi ancora siamo in attesa che il nostro corpo sia redento il giorno della risurrezione dei morti. Quindi ancora la morte non è stata vinta. Ma il timore della morte sì però, perché non dobbiamo più temere nulla, perché noi il giorno che moriremo andremo a incontrare il Signore lassù nei cieli, capite? La nostra anima andrà là. Quindi non dobbiamo temere più nulla, non dobbiamo temere quando passeremo nella valle dell'ombra della morte, perché da quando siamo stati salvati siamo diventati figlioli dell'idio altissimo, siamo stati liberati, dobbiamo essere liberi da ogni paura, dalla paura soprattutto della morte, perché la paura della morte rende prigionieri, rende schiavi, attenzione, infatti molti sono schiavi del diavolo, appunto hanno paura, molta paura di morire, perché sanno che cosa gli aspetta, fondamentalmente lo sanno, o l'incertezza che li distrugge, oppure già sanno, già lo sanno dove andranno a finire e questo li fa tremare. Ecco perché quando parliamo a un incredulo dell'inferno questo trema, perché ha paura della morte, che lo tiene schiavo, e fino a quando il Signore non lo libera con la salvezza e anche dal timore della morte quello rimarrà schiavo. Noi non siamo più schiavi adesso, perché dal momento in cui siamo nati di nuovo siamo stati liberati da questo tipo di schiavitù, siamo stati liberati, siamo stati salvati, siamo diventati figlioli dell'idio altissimo, capite? Non c'è una qualifica maggiore. Il fatto che nella Chiesa ci siano incarichi, c'è il pastore, ci sono gli anziani, ci sono i diaconi, queste sono tutte cose che servono qui sulla terra per organizzare, un gruppo di persone va organizzato, non è che lo puoi lasciare così libero, ognuno fa quello che vuole, no? Ma fondamentalmente siamo tutti uguali, perché siamo tutti figlioli dell'idio altissimo, è questa la qualifica più grande, il titolo più grande che un uomo possa mai ricevere, non ce n'è un altro, figliolo dell'idio altissimo, e lo Spirito di Dio insieme al nostro Spirito gridano Abba Padre. Vedete dunque quanto è importante l'opera dello Spirito? Vedete? Anche l'opera dello Spirito che ci aiuta anche, ci ha liberati quindi, siamo stati liberati dal timore della morte, non dobbiamo più temere la morte, la morte è un passaggio diciamo al Padre praticamente, anzi dovremmo essere desiderosi di partirci al più presto di andare col Padre. Finché il Signore ci lascia qui sulla terra vuol dire che abbiamo un'opera da compiere e noi dobbiamo sforzarci di compiere quell'opera che Dio ci ha dato. Quindi vedete cosa fa lo Spirito Santo dentro il credente, opera potentemente. Un'altra opera che comincia dal momento in cui il credente nasce di nuovo, lo leggiamo in Galati 5,22. Praticamente è il frutto dello Spirito Santo. Dal momento in cui noi nasciamo di nuovo, dentro di noi c'è un cambiamento. Cioè quando noi siamo nati di nuovo, perché noi dobbiamo parlare al passato, questo è avvenuto nel nostro passato, quindi siamo nati di nuovo. Quindi nel momento in cui siamo nati di nuovo sono cambiate certe cose dentro di noi, proprio i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre aspirazioni, i nostri desideri. È cambiato tutto perché chi ha operato tutto questo cambiamento dentro di noi? Tutto questo cambiamento l'ha operato sempre lo Spirito Santo che è venuto ad abitare dentro di noi. Tra le cose che sono cambiate, che il frutto, una conseguenza quindi della nuova nascita, del fatto che lo Spirito Santo è entrato dentro di noi, è quello che lo leggiamo adesso in Galati 5,22. Quello che lo Spirito Santo produce dentro di noi. Il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge. E non c'è legge infatti perché se questo frutto c'è, significa che si è nati di nuovo, capite? Se tutto questo si produce dentro il credente è prova certa che è nato di nuovo, perché se uno non è nato di nuovo non ha l'amore di Dio in lui, infatti vedete il primo elemento del frutto al singolare, quindi non dite i frutti dello Spirito, perché non sono separati l'uno dall'altro. Se fosse al plurale ci sarebbero distaccati l'uno dall'altro, distinti l'uno dall'altro. Qui dice come un grappolo d'uva, quando pensate al frutto dello Spirito immaginatelo come un grappolo d'uva, cioè gli acini sono tutti distinti ma tutti uniti nello stesso grappolo. Il frutto, quindi è uno il frutto, questo frutto che tutte queste caratteristiche che lo Spirito Santo le opera nel credente, tutte quante, non è che ce ne è solo una, due o tre. Ma se noi prima eravamo privi di amore, per dire, verso il Dio, a cominciare da Dio, verso il nostro prossimo, da quando siamo nati di nuovo l'amore è cresciuto in noi, prima verso il Signore, il Dio, e dopo anche verso il nostro prossimo. Quindi l'amore, vedete, si è manifestato a cominciare dal momento in cui siamo nati di nuovo. Allegrezza, e sì, perché adesso siamo contenti, siamo o no contenti di essere figlioli dell'Idiò Altissimo, salvati e che abbiamo una speranza di vivere per l'eternità con il Signore. Siamo o no gioiosi? Andiamo o no alla presenza dell'Idiò vivente quando ci inginocchiamo per adorare il Suo nome e ci presentiamo al trono della grazia. E al trono della grazia c'è abbondanza di gioia. C'è abbondanza di gioia alla presenza dell'Idiò vivente. Quindi più ci presentiamo in preghiera alla presenza dell'Idiò vivente e più la gioia abbonda dentro di noi. Quindi vedete, dal momento, e tutto questo è cominciato ad esserci. Ma la vera allegrezza, la vera gioia, non quella gioia che avevamo prima nel mondo, che era per un attimo e poi scompariva subito. No, questa gioia è durevole, è durevole fino a quando noi non ci contaminiamo con il peccato. Questa gioia di essere salvati, di essere figlioli dell'Idiò Altissimo rimane del continuo, capite? Quindi non stiamo parlando di un'allegrezza che passeggera. Poi anche la pace, ci sentiamo in pace, siamo stati riconciliati con Dio e con Dio siamo in pace. Così come cerchiamo di essere in pace con tutti gli uomini. È chiaro che per quanto dipende da noi, perché non sempre è possibile vivere in pace con tutti, però per quanto dipende da noi noi ci sforziamo di vivere in pace. Però sappiamo che purtroppo non con tutti si può avere pace, ma noi comunque abbiamo la pace dentro di noi e vogliamo vivere in pace con tutti. L'onganimità, quella pazienza, quella sopportazione. Prima magari noi non sopportavamo nulla, c'erano tante cose che non sopportavamo. Dal momento in cui siamo nati di nuovo cominciamo a sopportare di più. Non è che sto parlando della perfezione, non stiamo parlando della perfezione, ma stiamo parlando di qualcosa che prima non c'era e adesso invece sta crescendo dentro di noi, perché è lo Spirito Santo che sta operando. È una conseguenza di quello che lo Spirito Santo ha fatto dentro di noi con la nuova nascita. la benignità, la bontà, cioè ci cominciamo a mettere nei panni di coloro che soffrono, va bene? Cominciamo a comprendere di più quelli che sono più infelici, che sono in una situazione peggiore, che sono infelici, che sono in una situazione di dolore, di sofferenza, di debolezza, di malattia, di povertà. Allora noi comprendiamo il loro dolore, ci immedesimiamo in queste persone e cerchiamo possibilmente, se ne abbiamo l'opportunità, di aiutarli, diciamo, di sovvenire loro nei loro bisogni, di aiutarli, anche con una parola buona. Tutto questo cresce appunto per opera dello Spirito Santo. Poi siamo più fedeli, mentre prima la fedeltà, essere fedeli alla parola che si dice, essere fedeli alle promesse, essere fedeli a Dio, essere fedeli al coniuge, essere fedeli all'amico, al padrone che ci dà il lavoro, essere fedeli. Prima non sapevamo neanche cosa volesse dire, non avevamo la più pallida idea, adesso dobbiamo essere fedeli verso tutti, verso tutti! Noi dobbiamo essere leali, fedeli, verso tutti, capite? Non dobbiamo lasciarci andare a delle infedeltà per fare del male alle persone che ci sono vicine, che confidenne in noi, che si appoggiano a noi. Anche i dattori di lavoro, no? Molti pensano che Dio non li veda, ma Dio ci chiede di essere fedeli anche con i nostri dattori di lavoro, eh? Cioè fedeli, fare il loro bene, il bene dell'attività per il quale ci pagano. Dobbiamo fare il loro bene, perché noi siamo fedeli, dentro di noi c'è lo Spirito Santo che ci porta ad essere fedeli. Poi la dolcezza, no? Mentre prima eravamo magari tenuti a rispondere sempre duramente, no? A quelli che ci contrastavano, eravamo agitati di tante cose prima quando eravamo perduti nei falli e nei peccati. Da un certo punto lo Spirito Santo ci ha rigenerati e adesso tendiamo ad essere dolci. Quando c'è da parlare con dolcezza, è chiaro? Perché se noi parliamo con gente ostinata nel peccato, con fratelli che sono ribelli, duri, ostinati, che non vogliono abbandonare il peccato, è chiaro che poi dobbiamo essere duri, c'è un momento per essere duri, ma noi fondamentalmente verso una persona che ha sbagliato, che è debole, che riconosce i suoi peccati, noi cerchiamo di rialzarlo con dolcezza, con mansuetudine, con mitezza, perché? Perché questo è quello che lo Spirito Santo produce in noi, non viene da noi stessi, badate bene, questo frutto è prodotto dallo Spirito Santo dentro di noi, è una conseguenza della salvezza che abbiamo ottenuto. Un'altra cosa che opera dentro di noi per mezzo dello Spirito Santo è la temperanza, cioè l'autocontrollo nel soddisfare tutti i nostri bisogni, dobbiamo essere autocontrollati, temperati in ogni cosa, non dobbiamo darci ad esempio a cominciare dal mangiare, dal bere, essere smodati, essere senza fondo, dobbiamo essere equilibrati in ogni cosa, e mangiare, mangiamo quello che ci serve, né più né meno, cioè se ci abbiamo da mangiare, non dobbiamo strafogarci, fare gozzoviglie, c'è vino, c'è un bicchiere di vino, mezzo bicchiere di vino, va bene, se ti basta quello, beviti quello e basta, cioè non bere uno, due, tre bicchiere di vino, che dopo ti ubriachi, come ho visto purtroppo fare a certi fratelli, lascia stare, tu devi essere temperato in ogni cosa, bevi quella quantità di vino, se lo bevi, che ti è necessario per gustarlo, perché anche il vino è stabilito, Dio ha fatto anche l'uva per trarre da essa il vino, quindi si può bere, non è che non si può bere, è chiaro che non se ne può bere in quantità eccessiva, quindi bisogna essere temperati nel mangiare, nel bere, nel soddisfare ogni nostro bisogno, i bisogni ci sono, li dobbiamo soddisfare, però dobbiamo essere autocontrollati e moderati in ogni cosa, e questo è il frutto, il frutto dello Spirito Santo che sono cose che ha operato, opera in noi ancora, lo Spirito Santo dentro di noi e che poi però si manifestano anche esteriormente, perché da che cosa hanno potuto vedere che siamo cambiati, non so se vi è capitato a voi sicuramente sì, quando siete nati di nuovo qualcuno vi aveva detto ma io ti trovo cambiato, per quale motivo ci ha potuto dire una tale cosa? Ci hanno potuto dire una tale cosa perché hanno visto che siamo cambiati, non è che fisicamente siamo cambiati, siamo cambiati in quelle caratteristiche interiori che abbiamo che quando si manifestano esteriormente non sono più come erano prima quando eravamo perduti, non diciamo più parolacce, non diciamo non siamo più aggressivi, non siamo più malvagi, non facciamo le cose per ottenere un vantaggio solo nostro e danneggiare gli altri, cerchiamo magari a volte il più il vantaggio degli altri che il nostro. C'è stato un grande cambiamento in noi, un grande cambiamento che gli altri hanno visto e hanno potuto verificare, hanno potuto vedere con i loro occhi, perché? Perché quello che abbiamo noi interiormente, quello che abbiamo noi interiormente si manifesta anche esteriormente, si manifesta anche di fuori. E questo per quanto riguarda il frutto dello Spirito Santo. Un'altra opera che compie, in cui è interessata un'altra opera dello Spirito Santo, di cui abbiamo anche già accennato ed è molto importante, è il battesimo con lo Spirito Santo. Il profeta Gioele già parlò della promessa. Nel profeta Gioele capitolo 2, al versetto 28, stanno scritte le parole che poi ritroviamo anche in Atti degli Apostoli al capitolo 2. In Gioele stanno scritte queste parole. E dopo questo avverrà che io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne. E i vostri figlioli e le vostre figliole profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. E anche sui servi e sulle serve spanderò in quei giorni il mio Spirito. Quindi vedete, la promessa, questo Gioele qui parlava della promessa del battesimo con lo Spirito Santo. Quella potenza che sarebbe, quella pienezza di Spirito che sarebbe entrata, che sarebbe distribuita, sarebbe stata donata da Dio ai credenti per ricevere quella potenza per compiere, per essere testimoni efficaci e potenti dell'Evangelo. Questa promessa fu fatta inizialmente da Gioele. Poi fu ribadita da Giovanni Battista. Anche Giovanni Battista ricordò che Gesù sarebbe venuto per battezzare con lo Spirito Santo e col fuoco. E Gesù, infatti, Gesù in atti ricorda questa promessa. Vi dico queste cose per farvi capire che anche questa promessa è molto importante. Non è da sottovalutare, ma siccome è scritta in diversi punti la promessa, poi andiamo a vedere anche l'adempimento di questa promessa, significa che la dobbiamo ricercare, significa che i credenti la devono ricercare nel continuo, la devono desiderare, perché se uno non le desidera le promesse di Dio sta peccando, perché se uno sa fare il bene e non lo fa commette peccato. Quindi se noi sappiamo che questa promessa è una cosa buona per la Chiesa, è qualcosa che a Dio piace, che è secondo la sua volontà, noi ci dobbiamo sottomettere alla sua volontà e quindi dobbiamo ricercare questi doni potenti che Dio ha preparato per la sua Chiesa. Quindi al capitolo 1, versetto 4, dice, Luca scrive così, atti 1, 4, che ricorda le parole di Gesù e trovandosi con essi ordinò loro, quindi Gesù ordinò loro di non di partirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse avete udita da me, poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Poi al versetto 8 dice, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Vedete, quando qualcuno viene battezzato con lo Spirito Santo cosa riceve? Non la salvezza, perché la salvezza l'ha già ricevuta con la nuova nascita. Il battesimo con lo Spirito Santo cosa ci dà maggiormente? La potenza dello Spirito Santo e potenza, voi riceverete potenza, dice Gesù, non è che riceverete la salvezza, la salvezza l'avevano già ricevuta. E guardate questa potenza cosa fa? Che cosa opera nel credente? Nel credente opera questo, mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Cioè da che erano rinchiusi per timore dei giudei, pregavano nell'alto solaio, erano, diciamo, un po' chiusi con la potenza dello Spirito Santo e che si sono aperti. Quindi vedete c'è differenza tra qualcuno che non è battezzato, tra invece chi riceve il battesimo con lo Spirito Santo. C'è una potenza maggiore che si deve vedere poi, non è che si parla di cose e poi dopo chi è battezzato con lo Spirito è uguale a prima o peggio di prima. E no, la potenza si deve manifestare, sì, bisogna che sia un testimone efficace e potente dell'Evangelo, sì, e se no cosa hai ricevuto? Ricevi potenza e potenza non si vede. Quindi dobbiamo sapere cos'è perché poi dobbiamo riconoscerla anche negli altri. Ora, Gesù aveva fatto questa promessa. Ora guardate, il giorno dell'adempimento vi arriva il giorno dell'adempimento di questa promessa. Quindi andiamo in Atti capitolo 2 nei primi versetti. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia. Ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Quindi vedete come si adempì e nella stessa maniera la promessa del battesimo con lo Spirito Santo, nella stessa maniera che si è adempiuta la prima volta in Atti 2, così si adempie ancora oggi. Non c'è differenza. Quando noi preghiamo, quando si prega per il battesimo con lo Spirito Santo, si prega per ricevere questa esperienza che hanno ricevuto gli Apostoli, con la manifestazione del lingue. Guardate bene, questa, non un'altra. Non è che ce la dobbiamo inventare. È un'altra. No, è questa esperienza. Si viene riempito di Spirito Santo e con la bocca si comincia a pronunciare un linguaggio in lingue straniere. Linguaggi umani. Linguaggi umani, non linguaggi incomprensibili come dicono taluni. Perché? Perché leggendo, continuando a leggere il testo, vediamo che parlavano le lingue di tutte le nazioni, popolazioni, lingue tribù che all'epoca erano conosciute. Parlavano quelle lingue, lingue umane. Ora, se noi riceviamo lo stesso dono che ricevettero gli Apostoli, i circa 120, gli Apostoli e gli altri che c'erano insieme a loro, la stessa esperienza la devono sperimentare anche oggi i credenti. Quindi questa esperienza che si manifesta nella stessa maniera come si manifestava a loro. Non cambia. È sempre la stessa esperienza. Quindi è sempre lo stesso dono. Quindi quando si parla in lingue, si parla in lingue, lingue umane, non lingue incomprensibili, angeliche come taluni dicono. Lingue umane come scritto. Come scritto. E questa è un'altra opera, vedete, che compie lo Spirito Santo. Quando si parla in lingue è lo Spirito Santo lì che sta parlando, non è l'uomo. Lo Spirito Santo insieme al nostro Spirito, come abbiamo visto prima, come abbiamo detto prima, che lo Spirito Santo è strettamente connesso col nostro Spirito, con lo Spirito dell'uomo. Quindi porta a gridare Abba Padre, produce altri effetti come il frutto dello Spirito e produce anche, può manifestarsi direttamente lo Spirito Santo attraverso questo parlare in altre lingue. Si manifesta lo Spirito Santo. Ed è Lui che opera. Vedete quindi anche quest'opera che compie lo Spirito Santo. Una delle conseguenze del battesimo con lo Spirito Santo è anche la possibilità di ricevere i doni spirituali, perché non è che è terminato qui. Non è che se si riceve il battesimo con lo Spirito Santo si è ricevuto tutto e siamo a posto. Eh no? C'è ancora. Bisogna pregare per ricevere i doni spirituali, che sono una manifestazione dello Spirito. I doni spirituali li leggiamo al capitolo 12 di Prima Corinzi. Prima Corinzi 12. I doni spirituali sono distribuiti dallo Spirito Santo. Vedete quindi un'altra opera che compie ancora lo Spirito Santo, che distribuisce i doni spirituali ai credenti come Egli vuole. Adesso poi lo andremo a leggere. Come Egli vuole. E i doni spirituali cosa sono? Se noi li dobbiamo definire tutti i doni, tutti e nove i doni spirituali, la scrittura li chiama la manifestazione dello Spirito. Cioè i doni spirituali sono una manifestazione dello Spirito, lo Spirito che si manifesta esteriormente attraverso quella persona, attraverso quel credente. Quindi è lo Spirito che si manifesta, lo Spirito che si rende visibile, diciamo non visibile fisicamente, ma visibile esteriormente, capite? Come si vede che sta operando lo Spirito Santo lì. Questo voglio dire. Ora leggiamo in Prima Corinzi 12. Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate gentili eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo che vi si menava. Perciò vi fa sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema. E nessuno può dire Gesù è il Signore, se non per lo Spirito Santo. Or vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. E vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. E vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Iddio, il quale opera tutte le cose in tutti. Or a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utile comune. Infatti, a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operar miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli Spiriti, a un altro diversità di lingue e ad un altro la interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo Spirito distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come Egli vuole. Vedete quindi che lo Spirito Santo distribuisce i doni spirituali come Egli vuole, li distribuisce e che cosa sono questi doni? Lo ripeto, sono la manifestazione dello Spirito che edifica la Chiesa. Ci sono le lingue, chi parla in altre lingue edifica se stesso perché non è comprensibile agli altri. Però con il dono, unendo a questo dono il dono dell'interpretazione delle lingue, ecco che il linguaggio, diciamo la preghiera, mettiamola in questa maniera, la preghiera inalzata a Dio in lingue si rende comprensibile con l'interpretazione delle lingue, con la traduzione appunto di quelle lingue, di quella preghiera, la si rende comprensibile a tutta la Chiesa. Quindi tutta la Chiesa viene edificata. Perché l'obiettivo dei doni spirituali è quello di edificare la Chiesa. Quindi i doni spirituali sono diversi, poi in un altro momento li spiegheremo ad uno ad uno cosa sono questi doni spirituali. Oggi voglio limitarvi a ricordarvi che c'è quest'opera che compie lo Spirito Santo, quest'opera di distribuire i doni spirituali come egli vuole e che sono appunto una manifestazione dello Spirito. Farò solo degli esempi, facciamo degli esempi. Abbiamo visto che si parla in lingue perché è lo Spirito Santo che sostiene spinge la persona a parlare in altre lingue. Però anche la profezia, ad esempio, se andiamo in atti, in atti degli apostoli, quando parlava Pietro, capitolo 1, versetto 16, in atti degli apostoli, Pietro parlando di Giuda dice queste parole. Fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù. Vedete, qui Pietro dice che Davide, in un salmo appunto, in un salmo ha detto, ha parlato per lo Spirito Santo, cioè, o meglio, lo Spirito Santo, la profezia è venuta dallo Spirito Santo attraverso la bocca di Davide, quindi è lo Spirito Santo che ha parlato direttamente lui per bocca di Davide. E che lo Spirito Santo ha parlato per la sua bocca, lo conferma lo stesso Davide. Noi se andiamo a leggere, lo vediamo scritto in Seconda Samuele. Seconda Samuele, leggiamo queste parole. Seconda Samuele, capitolo 23, 23.1, leggiamo questi due o tre versetti. Queste sono le ultime parole di Davide. Parola di Davide, figliolo di Isai, parola dell'uomo che fu elevato ad alta dignità, dell'unto dell'iddio di Giacobbe, del dolce cantore di Israele. Lo Spirito dell'Eterno ha parlato per mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra. Vedete cosa ha detto lo stesso Davide, sempre sospinto dallo Spirito Santo, ammette quindi, dice chiaramente che attraverso la sua bocca chi ha parlato? Ha parlato lo Spirito dell'Eterno. Vedete quando dice che lo Spirito dell'Eterno ha parlato per mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra. Quando uno profetizza, quando uno profetizza, adesso torniamo appunto ai doni spirituali, uno dei doni spirituali è profezia, cioè quando un parlare che viene da Dio rivolto agli uomini, un messaggio di Dio rivolto agli uomini, mentre chi parla in altre lingue è una preghiera, un cantico, un lodare Dio, una lode a Dio, un parlare delle cose grandi di Dio, però è un parlare rivolto a Dio. Infatti la preghiera è un cantico rivolto a Dio, quindi chi parla in altre lingue si rivolge a Dio. Quando uno traduce, interpreta, praticamente questa interpretazione deve essere la traduzione di questo parlare a Dio, quindi deve essere una preghiera, un cantico, un parlare delle cose grandi di Dio che non è rivolto agli uomini. Ora purtroppo nelle chiese pentecostali dobbiamo registrare questo per esperienza personale che io ho sentito molte volte parlare in altre lingue e la traduzione, l'interpretazione è stata un messaggio rivolto all'uomo, cioè una sorta di profezia. Ma questo non è biblico, perché essendo le lingue un parlare rivolto a Dio, sia il segno del battesimo con lo Spirito Santo, sia il dono di diversità di lingue, non c'è differenza, è sempre un parlare rivolto a Dio. Quindi è come una preghiera, voi pensate a una preghiera? Una preghiera rivolta a Dio in un'altra lingua, cioè lo Spirito Santo lui direttamente in un'altra lingua, attraverso la bocca di quella persona prega il Dio per una certa cosa. Con l'interpretazione quella preghiera viene resa comprensibile alla lingua di tutti, quindi tutti comprendono quella preghiera, perché l'interpretazione la rende comprensibile. Io di questo non ne ho mai sentito, mai sentito, ho sentito sempre un messaggio rivolto agli uomini che le lingue erano sempre con due o tre paroline a ripetizione, che non erano un linguaggio praticamente, ma solo una cacofonia. Mentre per quanto riguarda invece l'interpretazione era sbagliata anch'essa, perché era un messaggio rivolto agli uomini, e invece il messaggio rivolto agli uomini è una profezia che non ha niente a che vedere con le lingue, capite? E' separata, le lingue sono legate all'interpretazione delle lingue, ma la profezia, cioè il parlare di Dio rivolto agli uomini attraverso una certa persona, attraverso un credente che profetizza appunto, quel messaggio non è legato a nessun altro dono, ed è un messaggio rivolto agli uomini. E Davide quando dice che lo Spirito dell'Eterno ha parlato per mio mezzo si rivolge appunto a questo tipo di messaggio, a un messaggio che il Dio ha dato alla sua chiesa, al suo popolo, anche a un uomo soltanto, a chi lui ha voluto, attraverso la bocca di una persona. Però quella persona presta la sua bocca, ma non sa quello che sta a dire, cioè non se l'è preparata a casa quel messaggio che sta dicendo, è una cosa estemporanea, cioè non meditata, non preparata, non dipende da lui, ma è lo Spirito Santo che sta parlando attraverso di lui, capite? E questa è la manifestazione dello Spirito, non è la manifestazione dell'uomo, è la manifestazione dello Spirito, l'uomo non si è preparato nulla, questi messaggi spirituali che vengono dallo Spirito Santo, queste profezie non se le è preparate l'uomo, ma vengono dallo Spirito Santo direttamente. Sono appunto, come abbiamo letto prima in Corinzi, sono la manifestazione dello Spirito, non l'uomo. Per quanto riguarda l'insegnamento, facciamo un esempio, per quanto riguarda l'insegnamento si può studiare la parola, si medita, si prende appunti, poi quando hai meditato puoi parlare a un altro citandogli quello che hai compreso. Anche in questo ci vuole una spinta dello Spirito Santo, è chiaro, l'opera dello Spirito Santo ci deve sempre essere, altrimenti non si ha la capacità di insegnare, di trasmettere un messaggio agli altri. Però è una cosa diversa, non è una manifestazione diretta dello Spirito l'insegnamento, è più che altro una manifestazione indiretta, cioè opera sempre lo Spirito dentro quel credente, lo sospinge a predicarlo, sospinge a dare un messaggio, lo sospinge a evangelizzare, a dire quel tipo di parole. Però non è una manifestazione diretta dello Spirito Santo come invece lo sono i doni spirituali, capite? Come lo è la profezia, il dono delle lingue, di diversità delle lingue, l'interpretazione delle lingue, come sono le rivelazioni, i sogni, visioni, quando Dio rivela una cosa futura, quando Dio rivela una cosa nascosta. Queste non sono cose che l'uomo si può preparare da solo, ecco. Sono una manifestazione chiara dello Spirito di Dio. E quindi ci sono questi doni spirituali che lo Spirito Santo li distribuisce come Egli vuole, ma noi dobbiamo pregare per riceverli. Bisogna pregare anche per quelli, fratelli. Eh sì, bisogna pregare. Bisogna pregare anche per ricevere questi. Dobbiamo pregare affinché Dio distribuisca i suoi doni spirituali alla Chiesa. Dobbiamo pregare anche che Dio distribuisca questi potenti doni che siano operanti nella Chiesa. Perché? Tutta la Chiesa ne verrà edificata maggiormente, capite? Perché tutto il lavoro che dobbiamo fare, la preghiera e i desideri che dobbiamo avere, devono essere volti sempre all'edificazione della Chiesa. E' il nostro obiettivo principale, edificare i fratelli, fortificarli, renderli sempre più forti in maniera che nulla possa sviarli dalla verità, capite? Quindi dobbiamo desiderare tutto quello che è utile per edificare la Chiesa. E tra queste cose utili c'è appunto anche i doni spirituali. Ci sono anche i doni spirituali. Dobbiamo desiderare e chiedere per noi e anche per gli altri, per tutta la Chiesa. Adesso andiamo a leggere anche un'altra opera che compie lo Spirito Santo, che è molto importante. Voi sapete che noi credenti non combattiamo contro carne e sangue. Noi credenti combattiamo contro chi? Contro gli spiriti immondi, contro il diavolo, contro il regno delle tenebre, contro tutti quegli esseri invisibili che sono spirituali ma sono malvagi. Certi spiriti si impossessano delle persone, non di certe persone, quindi c'è a volte bisogno, si rende quindi necessario di pregare per queste persone possedute per cacciare via i demoni. E come può essere possibile questo? Cioè i demoni, com'è possibile che escano da quelle persone? Dalle persone escono per l'opera dello Spirito Santo. Cioè noi dobbiamo pregare con autorità, sgridare il demone, ordinargli di andare via. Ma chi è che spiritualmente li agguanta questi demoni e li caccia via da dentro quelle persone? Chi è che fa spazio? Perché noi stiamo solo pregando il Dio. È lo Spirito Santo, così come adesso vediamo come avviene, come spiegato, come avveniva ai tempi di Gesù, così avviene ancora oggi. Non cambia nulla, è sempre lo Spirito Santo che caccia i demoni. Quindi quando noi preghiamo il Dio per cacciare via dei demoni, dovete sapere che se questi escono, escono solo per la potente opera dello Spirito Santo. Non è perché noi possiamo fare qualche cosa per cacciarli. Noi dobbiamo avere solo fede in Dio, santificarci, digiunare perché ci sono anche dei demoni che non escono se non per la preghiera e il digiuno. Pregare e digiunare è quando siamo in comunione con Dio, quindi pregando per certe persone che sono possedute, ecco che questi demoni escono, ma escono per la potenza dello Spirito Santo, per l'aiuto dello Spirito di Dio. Leggiamo in Matteo 12, dal versetto 22. Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo sanò, talché il mutolo parlava e vedeva. E tutte le turbe stupivano e dicevano, non è costui il figlio di Davide? Ma i farisei, udendo ciò, dissero, costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. E Gesù, conosciuto i loro pensieri, disse loro, ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto, ed ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebù, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figlioli, per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Vedete quindi qui Gesù ammise che anche lui ha cacciato i demoni, anche Gesù ha potuto cacciare i demoni per l'aiuto di chi? Per l'aiuto dello Spirito di Dio. Vedete un'altra opera quindi che compie lo Spirito Santo. Noi dobbiamo pregare, usare autorità contro i demoni, sgridarli, legarli e ordinare loro di uscire dalle persone. E questo nella fede in Dio, avendo fede in Cristo Gesù e diciamo pregando nel nome di Gesù Cristo, perché è nel nome di Gesù che escono i demoni. Ma nel nome di Gesù noi preghiamo, ma chi compie l'opera potente di far uscire quel demone da dentro le persone è lo Spirito di Dio. Quindi vedete anche in quest'opera vediamo operante lo Spirito del Dio vivente, è vero. Adesso andiamo al Vangelo di Giovanni per vedere altre opere che compie lo Spirito di Dio, lo Spirito del Dio vivente, perché sono molte le opere che compie, badate bene. Dobbiamo andare al capitolo 14, versetto 26. Qui Gesù sta parlando dello Spirito Santo e dice dal versetto 25. Queste cose vi ho detto, stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Vedete altre opere che compie lo Spirito di Dio? Lo Spirito di Dio insegna ogni cosa. Chi è? Quando noi studiamo, ma anche quando leggiamo uno scritto di un fratello che ci viene spiegato, quando noi ascoltiamo una predicazione, chi è che ce la fa comprendere? Non è che il fratello che parla o che ha scritto è bravo lui, è che noi comprendiamo le cose che leggiamo anche nelle scritture, le comprendiamo perché ce le insegna lo Spirito dell'Iddio vivente e vero. È lo Spirito che ci fa comprendere le cose. È Lui che opera, abita dentro di noi lo Spirito Santo. Ricordatevelo sempre, non ve lo dimenticate mai. Quando voi aprite la Bibbia, l'insegnante che ve le insegna è lì, in voi, è dentro di voi. Certo, non è che si comprende tutto subito, è chiaro, ci vuole anche un po' di tempo, ci vuole la preghiera, ci vuole piano, ci vuole... a volte si deve andare per gradi, non è che avviene tutto in uno schiocco di dita, però quando tu comprendi qualcosa delle scritture o di uno scritto che ha scritto un fratello, lo comprendi perché è lo Spirito Santo che ti ha guidato. Avete compreso? Quindi anche in quest'opera dobbiamo avere fede in Dio che quando apriamo le scritture, ecco perché dobbiamo pregare prima di studiare le scritture è cosa buona di inginocchiarsi davanti a Dio e dire signore io sono carne e polvere, io ho bisogno che tu intervenga, che tu operi per farmi comprendere quello che io leggo. Quello che io leggo non lo posso capire, non ho quell'intelligenza da me stesso per capire i misteri dell'idiovivente. Quello che io comprendo lo comprendo perché è Dio che opera, perché è lo Spirito Santo che mi insegna le cose, capite? Infatti non so se sentite, a volte studiate le scritture, comprendete qualcosa e c'è un fuoco che si accede dentro di voi, che siete gioiosi, siete contenti, hai capito. Perché hai capito? Perché sei intelligente, perché hai fatto degli studi umani che ti aiutano a capire più di altri? No, ha agito lo Spirito di Dio dentro di te e ti ha fatto comprendere quelle cose. Vedete, ce le ricorda, vede, vi rammenterà, tutte le parole di Gesù. Quando noi ci troviamo per strada, ci troviamo ad annunziare l'Evangelo, non so se vi è capitato, a voi a me mi è capitato diverse volte, mi vengono i passi così all'improvviso, devo dire quelli, quelli che mi vengono, non c'è niente da fare, devo annunziare quelle cose che mi arrivano. E chi è che ci dà queste cose da parlare? Da dove arrivano? Ma da sempre dallo Spirito del Dio vivente che abita in noi. Ma vedete, fratelli e sorelle, che il Signore non ci ha abbandonati, non ci abbandona, lui non ci abbandona mai, nessuna cosa, fratelli. Anche quando siamo nelle difficoltà più buie, quando sembra di vedere tutto buio. No, non ci ha abbandonati il Signore, è in noi, lo Spirito di Dio abita in noi. Siamo noi forse che lo contristiamo con i nostri pensieri, con le nostre azioni, con le nostre parole. Però lui è sempre lì che ci aiuta, ci guida, ci sostiene, capite? E ci insegna anche, ci fa comprendere le cose di cui abbiamo bisogno. Noi chiediamo che lui ci faccia capire e lui ci fa capire. Quindi dobbiamo pregare che Dio ci ammaestri anche nello studio della parola, sia studiando direttamente la parola e sia studiandola indirettamente attraverso gli scritti di fratelli oppure predicazione di fratelli, chiedendo sempre che Dio ci preservi da ogni male, ci aiuti a discernere il bene dal male per rigettare il male e ritenere solo il bene. Perché talvolta si possono leggere degli scritti, si può ascoltare qualche cosa che non tutto è giusto, quindi dobbiamo discernere ciò che è giusto da ciò che è male. Dobbiamo rigettare il male e tenere solo il bene. Quindi lo Spirito Santo vedete che ancora opera per insegnarci e ricordarci. Poi un'altra cosa che fa, vedete al capitolo 15 più avanti leggiamo il versetto 26, ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me, egli testimonierà di Gesù. Quindi lo Spirito Santo tende a portare il credente a testimoniare di chi? Di Gesù Cristo, non di se stesso. Allora, lo Spirito Santo non porta a glorificare lo Spirito Santo, lo Spirito Santo non porta, non sospinge a cantare allo Spirito Santo. Questa è un'altra cosa importante. Lo Spirito Santo è Dio, lo riconosciamo, lo riconosciamo per quello che realmente è, riconosciamo tutte le sue opere che compie nel credente, però non leggiamo da nessuna parte che lo Spirito Santo è stato invocato, che qualcuno ha cantato allo Spirito Santo, che qualcuno ha pregato direttamente lo Spirito Santo, capite? Quindi la scrittura questo non lo dice e noi non lo dobbiamo fare, ma è anche semplice capire il perché. Siccome è scritto che lo Spirito Santo non glorifica se stesso, lo leggeremo dopo, ma glorifica Gesù, lo Spirito Santo testimonia di Gesù, lo Spirito Santo porta a Gesù e a Dio Padre, ma non porta a glorificare se stesso, perché sarebbe come se lo Spirito glorificasse se stesso, capite? Perché? Perché quando noi preghiamo, quando noi facciamo qualsiasi cosa, parliamo, preghiamo, non è altro che lo Spirito Santo insieme al nostro Spirito che fanno una tale cosa. Quindi quando io canto, se io cantassi allo Spirito di Dio, non potrebbe lo Spirito Santo partecipare a quel cantico, perché? Perché vuol dire che lui parteciperebbe a glorificare se stesso, invece lo Spirito Santo sospinge a glorificare Gesù, a testimoniare di Gesù. Lo leggiamo più avanti, ad esempio, capitolo 16, versetto 12, sempre di Giovanni, adesso stiamo leggendo alcuni versetti di Giovanni, delle opere che lo Spirito Santo compie. 16, 12, molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Vedete? Non parlerà di suo, dirà tutto quello che avrà udito. E ancora più avanti leggiamo, a capitolo 16, versetto 14, egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Vedete? Qui sta parlando di Gesù, sta parlando dello Spirito Santo e sta dicendo egli mi glorificherà, cioè lo Spirito Santo glorifica Gesù, ma non c'è scritto da nessuna parte che lo Spirito Santo glorifica, canta e prega a se stesso, capite? Quello che noi facciamo lo facciamo sospinti dallo Spirito Santo e lo Spirito Santo non glorifica a se stesso, lo Spirito Santo non prega a se stesso, lo Spirito Santo non canta a se stesso. Quindi tutti quelli che fanno una tale cosa lo fanno in assenza di Spirito Santo, cioè non voglio dire con questo che lo Spirito Santo non è in loro, ma che lo Spirito Santo non partecipa a quell'opera, perché lo Spirito Santo non glorifica a se stesso, lo Spirito Santo porta a glorificare Gesù Cristo, non a glorificare se stesso. Quindi badate bene a queste cose, perché nella scrittura non sono riportate, non c'è nessun passo della scrittura che porta a glorificare, a cantare, a pregare allo Spirito Santo. Quindi quelli che lo fanno sbagliano, sbagliano perché sono ignoranti e quando gli viene spiegato se si ostinano, allora sono ribelli, sono ostinati. Quindi quello che è scritto, infatti noi dobbiamo praticare, ricordatevelo sempre, non bisogna andare oltre a quello che è scritto, non dobbiamo andare oltre. Quindi dobbiamo attenerci a quello che ci insegnano le scritture. Adesso volevo terminare con due passaggi, con delle esortazioni dell'Apostolo Paolo. Dobbiamo andare in Efesini, quello che dice Paolo in Efesini al capitolo 4, dice così. Perciò, bandite la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra il vostro cruccio e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente, con le proprie mani onde abbia di che far parte a colui che ne ha bisogno. Niuna mala parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete alcuna buona che edifichi, secondo il bisogno ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Vedete, quindi Paolo ha detto una serie di cose che i credenti non devono fare, devono dire la verità, non devono rubare, non devono far tramontare il sole sopra il loro cruccio. Quando c'è una discussione, soprattutto in famiglia, genitori e figli, marito e moglie, se c'è una discussione bisogna chiarirla in giornata stessa, senza aspettare che il sole tramonti sopra il nostro cruccio. Perché tutto questo, se si dicono male parole, se si fa del male al nostro prossimo, cosa produce tutto questo, questo operare? Lo Spirito Santo viene contristato, si diventa tristi perché lo Spirito Santo si è rattristato, quindi non porta più quella gioia, non opera più dentro di noi quella gioia, quel frutto dello Spirito non si manifesta come dovrebbe dentro di noi, perché lo Spirito Santo si è contristato. Quindi vedete, la nostra condotta, il nostro comportamento, i nostri pensieri, le nostre azioni, le nostre parole possono contristare lo Spirito Santo e noi così perdiamo la comunione con Dio, la comunione col suo Spirito Santo. Quindi vedete dalla condotta, dalla condotta, quindi chi vive nel peccato, sappiate, gli adulteri, i fornicatori, quelli non hanno la gioia di Dio, non hanno, non sentono dentro di loro la presenza di Dio, non la sentono perché, perché lo Spirito Santo dentro di loro, seppur c'è, lo Spirito Santo si è contristato ma non fa più sentire i suoi benefici, la sua benevolenza a quel credente, perché si sta conducendo male. Prima di far sentire la sua benedizione, quel credente deve ravvedersi e riconoscere il suo peccato, abbandonarlo e abbandonarlo se è possibile. Quindi fratelli, la nostra opera è questa, dobbiamo, non dobbiamo, contristare lo Spirito Santo perché dobbiamo impegnarci a non contristare lo Spirito. Un'altra cosa che non dobbiamo fare, la leggiamo in prima Tessalonicesi, in prima Tessalonicesi leggiamo capitolo 5 versetto 19, c'è un comando, questo è un comando, un ordine perentorio, immodificabile, c'è scritto non spegnete lo Spirito, questo è un comandamento. Qual è l'obbligo quindi che abbiamo qui? È quello di tenere vivo lo zelo, l'ardore dentro di noi, di tenere viva la comunione con il Dio vivente vero, ci dobbiamo impegnare nel continuo a pregare il Dio, a santificarci, a studiare le scritture, a stare in comunione continua con il Dio vivente vero, perché dobbiamo, per forza di cose, ci è richiesto e ordinato di alimentare quel fuoco dello Spirito Santo che è dentro di noi. Quindi dobbiamo alimentare e si alimenta con la comunione con Dio, si alimenta con la preghiera fatta a Dio del continuo, così lo zelo rimane acceso dentro di noi, l'ardore, il fuoco, perché lo Spirito Santo è fuoco, qui dice non spegnete lo Spirito, il fuoco ha un'azione, ha un'azione purificatrice, il fuoco purifica, il fuoco quindi mantiene puri, il fuoco, diciamo, illumina anche, il fuoco riscalda, il fuoco non ci rende inoperosi, ma siamo zelanti, quindi, nelle opere del Signore. Quindi il fuoco, ecco perché si prende talvolta, la scrittura prende la figura del fuoco, perché sono comprese tante cose, con il fuoco ci teniamo lontani da ogni impurità che ci contamina, con il fuoco abbiamo l'illuminazione che ci serve per camminare come piace al Signore, per discernere il bene dal male, con il fuoco c'è un ardore dentro di noi che è potente e ci spinge a compiere ogni opera come piace al Signore e non siamo quindi pigri nelle cose che dobbiamo fare, perché è lo Spirito Santo che opera. Noi questo zelo lo dobbiamo tenere accesi, fratelli, dobbiamo impegnarci per tenere sempre lo zelo acceso, senza spegnerlo mai, dobbiamo essere del continuo ferventi di Spirito. Non dobbiamo quindi spegnere il fuoco, dobbiamo saperlo e ci dobbiamo applicare affinché lo Spirito Santo non si spenga. E queste sono alcune opere, alcune opere che lo Spirito Santo, che sono scritte nella parola di Dio che lo Spirito Santo compie e che noi dobbiamo tenere vivo dentro di noi lo Spirito Santo, dobbiamo essere zelanti, dobbiamo desiderare che il fuoco dello Spirito arda del continuo dentro di noi, perché ci guida, ci insegna, ci ammaestra e ci dona tutto quello di cui abbiamo bisogno. Questa era l'esortazione, i consigli, l'edificazione che volevo darvi in questo giorno. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.